Sindaco, ci siamo tra non molto e la fine dell'anno, quindi il Comune di Teramo organizza un Capodanno e un Capodannino? Sì, insomma, anche quest'anno ci sarà il Capodanno in piazza, una scelta dell'amministrazione, dell'assessore agli eventi Guido Campana, anche sulla spinta del successo dello scorso anno e degli anni passati. Quest'anno avremo Demo Morselli e Marcello Cirillo, quindi sicuramente una band, un gruppo molto famoso che sicuramente farà divertire i teramani, ci sarà anche il Capodannino e poi il 27, dal 27 ogni sera ci sarà un gruppo diverso di artisti teramani, quindi direi un Capodanno un po' più lungo. Devo ringraziare tutti gli sponsor perché diciamo che l'impegno economico del Comune è praticamente pari quasi a zero, poche migliaia di euro, mentre gli sponsor ci hanno dato una grossa mano e quindi vanno ringraziati tutti gli sponsor. Ci sarà anche il bellissimo albero di Natale che abbiamo acceso qualche giorno fa, insomma un Natale difficile perché c'è una crisi forte, insomma io mi rendo conto che i cittadini sono in difficoltà, però magari per una serata, la notte del 31, mettiamo da parte i problemi, passiamo insieme tutti quanti questa festa, questo Natale appunto, questo Capodanno appunto proprio in relazione alla crisi, insomma è anche un momento di coinvolgimento della città organizzata dall'amministrazione comunale, quindi il mio invito è a tutti i teramani e non solo i teramani di venire, di essere presenti il 31 a sera, con Demo Morsello e Marcello Cirillo in Piazza Martiri e nelle serate precedenti con altri artisti e poi bimbi, il Capodannino, il pomeriggio il 31.